Nel ritiro di Camerino è folta la schiera anche degli aggregati dalla Juniors dello Scorsono, tra questi c'è Pasquale Rapio, classe 2004, difensore centrale. Pasquale, come sta procedendo questo ritiro qui nelle Marche? Sì, sta andando molto bene gli allenamenti, il carico di lavoro si sta facendo sentire, ma stiamo creando un bel gruppo, soprattutto con gli under, abbiamo costruito un bel rapporto. Gli over mi stanno aiutando molto sotto tutti gli aspetti di vista e spero di crescere molto. Dopo l'avventura dello scorso anno, quest'anno una riconferma che sicuramente ti fa piacere, ma è anche un segno di grossa responsabilità e fiducia da parte della società. Responsabilità per te e fiducia da parte della società? Sì, per me è un grande onore vestire la maglia della mia città, soprattutto anche perché sono il più piccolo. E niente, spero di dare il massimo. Hai legato molto con Petta, che è difensore centrale come te, come ti sta aiutando a crescere nei suggerimenti, nei consigli, nello stare in campo e anche nel vivere una vita da calciatore. Sì, con Andrea ho legato molto, soprattutto con Andrea. Lui mi aiuta molto, soprattutto nella fase difensiva, mi dà consigli ed è sempre pronto ad aiutarmi quando glielo chiedo. Con Alessandro Guarnaccia, classe 2003, aggregato dalla Juniores alla prima squadra dopo lo scorcio della scorsa stagione. Alessandro, innanzitutto, come sta procedendo questo ritiro di Camerini? Benissimo, inizialmente era un bellissimo ritiro, poi inizialmente ora si sta facendo sentire la fatica, come è normale, però dobbiamo comunque rimanere concentrati e continuare così. Diciamo che ho trovato un gruppo accogliente, i grandi sono bravissimi, che danno consigli utili anche per il mio ruolo. Mi aiutano, diciamo, a non compiere errori che prima svolgevo normalmente. Classe 2003, quest'anno un'età importante perché c'è l'obbligatorietà appunto di schierare in campo titolare almeno un 2003, quindi senti anche la responsabilità della grossa chance nella tua carriera. Sì, sì. C'è nel mio ruolo anche Colacci, che è appunto una bella concorrenza, lo ritrovo anche compagno di distanza, quindi diciamo stiamo aumentando anche l'intesa, il feeling, ci diamo consigli, appunto per migliorare per il bene della squadra anche. I più grandi, pensando soprattutto al reparto di difesa, come vi stanno aiutando, come stanno contribuendo alla vostra crescita? Spunto, sono fondamentali. In questo ritiro mi hanno, sino ad ora mi hanno dato tantissimi consigli, utilissimi, anche Lanzolla, lo stesso Danilo Colella, che mi stanno appunto facendo migliorare in molti aspetti. Con Alessandro Zaza, centrocampista classe 2003, come procede questo ritiro di Camerino? Procede benissimo, i primi giorni sono stati molto faticosi, entrare nel ritmo della doppia seduta, mattina o pomeriggio, però poi piano piano ci siamo adattati, anche noi che è il primo ritiro, aggregato è una prima squadra, comunque molto faticoso, però stiamo anche noi under al passo dei grandi e anche i grandi sono molto d'aiuto in questo perché spingono molto a noi ragazzi a fare sempre di più e raggiungere, come hanno detto loro, l'obiettivo, che tutti sappiamo. In un centrocampo con Biasson, Manzo, Dancora, Guadalupe, Montinaro, si sprecono i consigli, i suggerimenti e anche una buona occasione di crescita per te. Sì, sì, come hai detto tu Nicolaggio, ci sono tanti mostri al centrocampo, tanta qualità e anche sono molto bravi perché aiutano a fare sempre di più e danno consigli per arrivare ai loro livelli. Che poi, appunto questo volevo dire, in caso di Dancora, è molto bravo anche Stefano, sono molto bravo a dare consigli e anche, diciamo, Turo, mi aiuta tantissimo. Un centrocampista che vediamo in questi allenamenti, anche con la propensione all'inserimento, c'è stato anche un gol nel primo test, è una tua caratteristica quella di provare ad attaccare la profondità? Sì, 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 è un mio punto, diciamo, di forza, è attaccare la profondità e provare a dare superiorità in attacco, anche provare a fare gol come è successo appunto nell'Amichevole dove siamo arrivati con Danna davanti alla porta e abbiamo fatto una bella azione dove c'è stato il gol. Con Francesco Manzi, portiere classe 2003, anche lui aggregato dalla Juniores alla prima squadra, Francesco, come sta procedendo questo ritiro di Camerino e come il mister Gianni Iurino ti sta mettendo sotto torchio con gli allenamenti? Ma questo è il mio secondo anno qui a Bitonto e posso assicurare che con il mister Iurino si lavora, infatti quest'anno non è mai facile, però con lui si lavora molto bene e quest'anno ho l'opportunità di lavorare con portieri come Flavio, Lonoce, Tommaso, Martellui. Il rapporto appunto che stai instaurando con due portieri che sicuramente sono più grandi a livello di età, anagrafico, ma anche di esperienza, cosa stai provando a rubare a livello di esperienza dai tuoi due compagni di squadra? Ma sono due ottimi portieri e giorno dopo giorno cerco anch'io di migliorare qualcosa prendendo appunto spunto da loro, come ad esempio tutta la costanza negli allenamenti e non solo.